Carissimi ben ritrovati, io quest'oggi mi trovo a Pinerolo, ospite di Targa Auto in stradale San Secondo 92, naturalmente a fare gli onori di casa, ritrovo con grande piacere Roberto Gobbine, ciao! Ciao Sonia, ben ritrovati a tutti voi! Vendita auto nuove, usate di qualunque marca, con dei prezzi veramente allettanti, ma non solo! Sì, noi trattiamo tutte le auto, sia nuove che aziendali, chilometri zero, d'occasione, quindi in più disponiamo di servizi, quindi assicurazioni, finanziamenti, tutto al nostro interno. E poi da oggi anche? Il noleggio! È vero, ho detto bene, disponiamo anche di autovetture a noleggio a partire da 30 euro al giorno, quindi vi aspettiamo per un preventivo. Bene, carta e pene alle mani, andiamo a scoprire le chicche di Targa Auto e occhio al prezzo ma soprattutto alla qualità. Tempo di neve, tempo di quattro ruote motrici, vi presentiamo questa bellissima RAV4 automatica, ve la proponiamo a 14.500 euro. Un'altra bellissima Jeep Renegade, vettura appartenuta a un solo proprietario, una autovettura con 40.000 chilometri, la proponiamo a 23.900 euro. Sempre di casa Jeep, una bellissima Grand Cherokee, 100.000 chilometri per quest'auto, la proponiamo a 13.900 euro. Tutte le nostre vetture sono comprese di un anno di garanzia, revisionate e tagliandate. E non solo auto d'occasione, da Targa Auto, come vedete in pronta consegna una Tiguan, quattro ruote motrici turbodiesel. Qui a fianco un'altra vettura molto molto bella, appartenuta a un unico proprietario, una X1, la proponiamo a 14.500 euro. Come detto prima, non solo auto d'occasione, un'altra vettura nuova di casa Audi, una bellissima Audi A1 S-Line. Auto vettura chilometro zero, non mancano, questa bellissima Panda chilometro zero, la proponiamo a 15.150 euro. Un'altra vettura nuova, anche qui, in pronta consegna, questa nuovissima C3 della Citroen. E proseguo io, buongiorno a tutti, con questa stupenda Panda 4x4, per rimanere in tema, è del 2011 e la vendiamo a soli 8.900 euro. Si continua con questa Ford Fiesta turbodiesel, con soli 59.000 chilometri del 2012, a 8.200 euro. Si continua con Fiat Tipo 1.6, versione Lounge, quindi la più bella, con soli 32.000 chilometri del 2016, a 15.900 euro. Stupendo Nissan Juke, 190 cavalli, quattro ruote motrici, a 10.500 euro del 2011. Ed in chiusura io saluto anche Enzo Saluzzo, che è naturalmente il braccio destro di Roberto Gobbin. Che cosa ci ricordi? Vi ricordo che il noleggio da questo mese, quindi, è disponibile a partire da 30 euro al giorno e abbiamo anche vetture 6-7 posti e un furgone per i traslochi. Di tutto di più, da Targa Auto, Stradale San Secondo 92 a Pinerolo. Io ringrazio te, ringrazio voi per l'ascolto e, come sempre, linea alla regia. Grazie a tutti.